La Guardia di Finanza di Pesero Urbino, dopo il sequestro di 500 litri di gasolio nell'aprile dello scorso anno, ha intensificato le attività volta il contrasto dei traffici illeciti e nell'ambito di un controllo eseguito lungo la strada cesanense a Marotta di Mondolfo, ha sequestrato circa 150 litri di gasolio per riscaldamento. L'operazione è stata condotta dalle fiamme gialle della compagnia di Fano, che hanno fermato un'autocisterna guidata dal dipendente di una ditta anconetana che opera nel settore petrolifero. Durante gli accertamenti è emerso che il mezzo conteneva un quantitativo di carburante eccedente rispetto a quanto dichiarato. In particolare l'autista ha esibito i documenti di accompagnamento semplificato previsti dalla legge per il trasporto di prodotti soggetti ad accisa che ne avrebbero provato la legittima provenienza. Ma le successive operazioni di pesatura della cisterna hanno rilevato che il gasolio era in realtà in quantità superiori. Infatti il mezzo trasportava 150 litri di prodotto in più, che come previsto dalle normative di settore è stato considerato di illecita provenienza, quindi è stato sottoposto a sequestro probatorio per il reato di contrabbando. Ora sono in corso ulteriori indagini per capire se si tratti di un caso isolato e quale fosse la provenienza. L'autotrasportatore e il titolare dell'impresa sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Pesaro e rischiano la reclusione da sei mesi a tre anni. Oltre a una multa di importo fino a dieci volte il valore dell'imposta evasa se non dimostrano la legittima provenienza del prodotto energetico trasportato in eccedenza.